iniziamo a ragionare assieme a cercare ovviamente ricette magiche non le ha nessuno la situazione è indubbiamente estremamente difficile do due numeri per iniziare dallo scoppio dell'epidemia in italia quindi parliamo di ormai 50 giorni fa il fuzzimi va perso il 30 per cento è arrivato a perdere il 40 per cento lo spread ovvero differenziale tra i tassi di interesse italiani e tedeschi è allargato del 50 per cento siamo sopra i 200 punti base siamo arrivati anche a 280 nelle settimane passate i numeri dell'epidemia sono tragici ed in continuo aumento oltre 20.000 persone sono morte in italia i contagiati sono oltre 160.000 ma gli esperti dicono che i numeri reali possono essere fino a 10 volte e tanto l'economia europea nel primo semestre se va bene questo dicono almeno gli economisti che abbiamo sentito a bloomberg correrà almeno del 10 per cento nel primo semestre numeri che insomma veramente da capogiro ma è il momento di cercare di capire come e cosa potrà succedere una volta in cui il cosiddetto lockdown la quarantena sarà allentata nonostante ovviamente il virus non sarà scomparso partiamo da mossa voi insomma banca generale 69 miliardi di masse in gestione 5 miliardi raccolti nell'anno scorso 1 e mezzo nel primo di trimestre quest'anno siete specializzati ovviamente nella sezione dei risparmi nei servizi di wealth management dal suo osservatorio privilegiati in una fase veramente così difficile come si sta come si state muovendo per salvaguardare e gestire i patrimoni in questa parte buongiorno a tutti e innanzitutto diciamo che questa crisi sta colpendo quanto di più caro abbiamo quindi la salute nostra dei nostri cari il lavoro le imprese e i risparmi quindi è difficile dare delle risposte concrete per risparmi senza considerare tutto quello che c'è attorno la prima risposta è che non c'è il contatto fisico ma ci deve essere vicinanza quindi proattività molto importante star vicino ai nostri clienti e soprattutto riuscire a tenere i due livelli di comunicazione quello sicuramente emotivo ma anche quello razionale abbiamo visto delle reazioni a livello di politica economica senza precedenti perché questa è una crisi che ha colpito tutto il sistema ed è evidente che lato risparmi non c'è la ricetta giusta ma bisogna considerare un po' le esigenze dei singoli purtroppo ci sono degli imprenditori che stanno mettendo mano i propri risparmi per la situazione per dare ossigeno alle proprie imprese ci sono famiglie che stanno intaccando i risparmi quindi una ricetta per tutti non c'è quello che è certo è che non è solo un problema del mercato azionario l'italiano risparmiatore italiano mediamente al 20 25 per cento di azioni tutto il resto è investito in obbligazioni nel credito e forse l'asset class che ha fatto peggio nei portafogli degli italiani noi siamo arrivati a questa crisi con un profilo un po' più difensivo quello che stiamo cercando di fare è dare delle risposte concrete innanzitutto per la liquidità oggi si riescono a fare delle gestioni simili tesoreria a basso rischio per remunerare un po' la liquidità e poi stanno lavorando molto sull'ingresso progressivo sui mercati perché quando si manifesta con questa violenza rischio che forse conviene assumerne un po di più se coerente con quello che il profilo quindi nessuna ricetta vincente solo molta professionalità molta vicinanza di riuscire a mettere in fila le cose che stanno succedendo. Professor Siniscalco passo da lei per avere diciamo la sua visione della situazione non solo per il suo background ma anche per il ruolo che ricopre per una delle più importanti banche d'affari mondiali è inutile dire che l'Italia è l'epicentro dell'epidemia e anche rischia di diventare l'epicentro delle conseguenze economiche dell'epidemia l'Europa in qualche modo si è mossa come la vedono gli investitori internazionali la situazione soprattutto per il nostro paese? Ma l'Italia è partita come l'epicentro della crisi sanitaria nel mondo occidentale dopo la Cina e poi è stata raggiunta da tutti quanti se voi guardate non solo i grafici ma anche il dibattito negli altri paesi le misure adottate dall'Italia il social distancing eccetera sono state fatte proprie da tutti gli altri paesi stati uniti compresi quindi non è che siamo più diciamo gli osservati speciali ma anzi semmai battistrada. Vedo questo il problema evidentemente non è è doppio è la profondità della crisi e qui dobbiamo aspettarci qualcosa intorno al 10 per cento almeno in base annua e soprattutto la forma della ripresa perché mentre alcuni pensano e gli investitori di wall street in particolare che la ripresa tornerà su come è andata giù in forma a v come si dice v shaped altri pensano che la forma assomigli piuttosto al logo della nike avete presente si tuffa verso il basso e poi risale più lentamente ora questa forma la ripresa dipende da quello che i paesi faranno per riaprire e da quello che quindi se riapriranno il colpo no se ci sono rischi di una seconda ondata e così via e evidentemente dal punto dal ritmo della riapertura gli investitori per la prima volta dopo molti anni sembrano guidati dai fondamentali cioè da come le economie riprenderanno piuttosto che da fattori unicamente tipici del mercato finanziario detto questo sono tutti in attesa stanno tutti guardando non c'è stata capitolazione c'è abbastanza fiducia è stato abbastanza seppur un crollo evidentemente ma è stato abbastanza ordinato adesso vediamo perché la settimana entrante inizia la stagione degli earnings la stagione dei risultati e vedremo come i mercati reagiranno quindi è stata una botta una botta in attesa per i mercati non per gli esperti di sanità che anzi si aspettavano qualcosa del genere la variabile fondamentale è la forma della ripresa che dipende dalle politiche economiche europee e italiane a proposito di politiche economiche disposto a fabrizio pagani senza diciamo entrare nella anche nella zuffa politica che negli ultimi giorni e settimane si è creata attorno al ai meccanismi di garanzia a livello europeo al mesma ragionando su quelle che possono essere veramente gli impatti delle misure che sono state messe in atto dal governo italiano e dall'europa noi oggi a bloomberg abbiamo fatto una piccola inchiesta che titola 750 miliardi di in qualche modo fondi che potrebbero arrivare le imprese italiane il rischio che la burocrazia li faccia arrivare troppo tardi cioè in altri paesi le application sono già avanti le imprese hanno già ottenuto parte dei fondi per ripartire in italia non abbiamo ancora gran parte di questi meccanismi ovviamente lei adesso a musni siete anche uno dei più grandi gestori di private debt del mondo qual è la vostra visione sull'europa su come si è mosso l'europa ma soprattutto sul paese ma guardi vediamo di cosa stiamo parlando stiamo parlando di garanzie statali dei prestiti che le banche fanno alle imprese più in generale agli operatori economici perché questi prestiti per futuro hanno l'intero spettro degli operatori dalle partite iva fino alle grandi imprese quindi questi 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 prestiti sono stati autorizzati diciamo queste garanzie sono state autorizzate nel decreto recentemente adottato che coprono i prestiti coprono circa il 25 per cento del fatturato dello scorso anno perché sostanzialmente il ragionamento corretto che si è fatto è stato si è chiuso le attività si sono soffermate le attività o fortemente rallentate per circa tre mesi quindi io prendo dalle banche un credito relativo allo stesso periodo dello scorso anno questo è un aspetto molto importante può superire soprattutto se arriva in tempi rapidi un'esigenza e una necessità molto molto acuta del sistema economico cioè l'assenza di liquidità molti dei pagamenti sono stati sospesi però tuttavia gli operatori economici continuano a dover pagare i fornitori continuano a dover pagare certi tipi di spese di bolletti e questo naturalmente è un peso enorme nel momento in cui non si fa fatturare per questo il sistema economico e il governo garantiscono un prestito che ristora questo in questa stenza di flusso di casta ed è un prestito a condizioni eh molto maltezza ehm è importante che eh questi che le procedure messe in atto dal governo siano effettivamente le più rapidi possibili eh bisogna qualche video eh vedremo nei prossimi giorni eh come la situazione evolverà ci auguriamo naturalmente che eh chi ne ha bisogno e chi ne fa richiesta possa accedere in tempi in tempi rapidissimi perché il rischio qualora questo non avvenga è effettivamente che avremo al momento dell'apertura meno di aperture e più esercizi commerciali eh chiusi più eh imprese che sostanzialmente non eh e questo sarebbe già così un danno permanente per il nostro sistema economico E certo quello è il grande rischio eh e la grande preoccupazione ehm passerei ad una teleprincipe eh per guardare un po' il mercato no? Ehm in questo momento mentre parliamo il Fuzi Mib eh per parlare di mercato azionario è a diciassette mila e settecento punti in qualche modo eh dieci punti percentuali sopra i minimi ma ancora trenta per cento sopra i livelli dove eravamo a eh febbraio attorno al 20 febbraio quando ma il il 21 febbraio il primo ahimè eh noto paziente uno in Italia viene scoperto a Lodi da lì eh l'epidemia eh dilaga ehm la reazione ci diceva anche prima a siniscarco dei mercati è stata violenta all'inizio ma poi ha valutato le misure messe in atto dalle varie eh dalle varie banche centrali e dalle autorità eh monetarie fiscali ehm come vedete voi eh eh a eh Fidelity in questo momento a il il a Fidelity l'andamento eh del mercato e cosa consigliate gli investitori ehm in questa fase di in cui ovviamente la volatilità estrema perché ci muoviamo in un territorio che a tutti è sconosciuto quindi noi qui stiamo provando no a a fare qualche ragionamento ma parliamo di un cambio totalmente focale eh per cui quello che era vero fino a due mesi fa bisogna capire cosa sarà no quando la fase almeno più critica dell'emergenza sarà finora infatti io partire proprio col dire che non c'è mai stato nella storia un primo trimestre peggiore di quello di quest'anno e le flessioni sono state talmente intense e violente da averci costretto ad aggiornare il vocabolario della finanza ormai Black Monday non è più il crollo di Wall Street del 19 ottobre dell'87 è il 9 marzo del 2020 e questi crolli sono avvenuti in contesto come giustamente le diceva di esplosione della volatilità su livelli superiori al massimo assoluto di sempre che avevamo registrato in occasione del fallimento di Rimambravers quindi delle vere e proprie montagne russe se però vogliamo guardare avanti è importante capire perché il mercato ha avuto questa reazione e secondo noi è legata a quattro fattori prima di tutto inizio anno ci aspettavamo quello che Voltaire definisce il migliore dei mondi possibili e poi i mercati hanno dovuto prezzare il rischio di una recessione globale secondo nel primo caso di pandemia ai tempi dei social media siamo stati vittime dell'infodemia questo flusso un martellante di notizie incoerenti ove non ervate terzo i mercati sono cambiati molto negli ultimi anni e quindi la flessione non ha fatto scattare solo come passato le margin calls ma le vendite si sono scatenate per la liquidazione dei fondi passivi degli agifanti degli algoritmi di treni e infine questo è un punto importantissimo abbiamo dovuto accettare l'incertezza perché i governi pur avendo avuto modo di osservare per settimane il virus in Cina le sue dinamiche effettive le tecniche di contenimento hanno deciso di non seguire né sul piano sanitario né su quello economico il libretto di istruzione della Cina e hanno precipitato il mondo nel caos di positivo guardando avanti possiamo dire però che si sta cercando di mettere ordine nel caos a partire proprio come citava lei dalle banche centrali che hanno agito in modo molto efficace come prima linea di difesa e sebbene con qualche certezza in più è troppo spesso in ordine sparso anche i governi stanno mettendo insieme un'azione espansiva senza precedenti nella storia economica e l'azione dei governi sarà fondamentale affinché uno stop per adesso temporaneo dell'attività economica non si tramuti in una crisi ciclica che terrebbe a lungo ostaggio i mercati aggiungo un'altra considerazione pur su uno scenario negativo come appare quello attuale vi sono degli elementi positivi oltre all'azione dei governi e delle banche centrali per esempio la Cina che è il motore della crescita globale è già in ripresa inoltre la caduta del prezzo del petrolo riduce il rischio di inflazione lasciando mano libera all'azione espansiva delle banche centrali che infatti stanno agendo a pieno ritmo ma è ancora più importante far notare che un basso prezzo del petrolo equivale esso stesso a una politica fiscale espansiva perché appare a un taglio della bolletta energetica mondiale quindi io concluderei dicendo che è importante ricordare che chi oggi si lascia andare al più cupo pessimismo non sta solo scommettendo contro la comunità scientifica mondiale ma anche contro uno sforzo senza precedenti nella storia di governi e banche centrali uno sforzo senza precedenti indubbiamente è una situazione senza precedenti quindi cautela sul mercato lei è d'accordo su queste stime che abbiamo visto di medire rischi recessivi come potrà essere la shape la ripresa e poi anche dal suo ovviamente osservatorio privilegiato gestisce una fetta importante del risparmio privato del paese come si può veramente provare a ripartire quale può essere una delle ricette ma guardi a livello globale credo che si stia facendo moltissimo il ruolo delle banche centrali è fondamentale quindi io sono ottimista e credo che la volatilità non sia finita ma che ne usciremo più forti di prima il problema vero è se poi parliamo invece del nostro paese noi siamo il terzo operatore di clientela private in Italia e credo che in qualche modo bisogna mettere in fila delle azioni da fare sul nostro paese nel nostro paese il più velocemente possibile la prima io credo che il patrimonio privato non debba essere utilizzato per tappare i buchi, gli errori del governo o dello Stato ma possa essere utilizzato per fare girare di più l'economia quindi avvicinare il risparmio privato alle aziende è un dovere e noi lo stiamo provando a fare come sostanzialmente da una parte raccogliendo la richiesta di finanziamenti delle piccole e piccolissime imprese che hanno disperatamente bisogno di ossigeno e dall'altra tornando delle soluzioni di investimento che aggreghino questi finanziamenti ma con diversi livelli di protezione questo si può fare grazie allo Stato che ha messo le garanzie delle protezioni e grazie anche a degli investitori istituzionali che si possono prendere il suo rischio quindi la cartolarizzazione dei finanziamenti è una risposta strutturale per avvicinare il risparmio privato all'economia reale senza nessun allarmismo ma creando valore per tutti il secondo tema che bisogna far ripartire le attività produttive se c'è qualcosa di efficiente nel nostro paese sono le piccole, medie e grandi imprese le grandi imprese possono essere a loro volta un presidio per la salute lì c'è gerarchia c'è organizzazione c'è processo e tra le altre cose determinerebbe anche un presidio un monitoraggio non solo per il lavoratore ma anche per le famiglie dei lavoratori questo è il secondo pezzo non possiamo permetterci di restare a casa con tutto la salvaguardia del lavoratore ovviamente viene prima di tutto ma una cosa non esclude l'altra la terza soluzione la terza priorità che abbiamo tutti è quella relativa ai giovani ricordiamoci che noi siamo entrati in questa crisi con una disoccupazione dei giovani al 30% che hanno trovato come valvola di sfogo l'estero allora io credo che se c'è un'area in cui bisogna investire investire massivamente e subito a fondo perduto è nell'assunzione di giovani nella spinta delle nuove generazioni per dare un contributo in una fase di ripresa peraltro i giovani sono quelli meno colpiti da questa crisi quindi partire dai giovani aprire le attività e non creare terrorismo sul capitale privato ma mettere a disposizione dell'economia reale grazie a tutti e in bocca al lupo a tutti quanti grazie grazie